Lo squadro di Lammatiche è immediatamente ritornato da un uomo dell'Università. Il giro è proprio vinto, non è vero, ma non è vero. Niente gli altri armi, non è vero, ma non è vero. Due detti nella casa di un male che ha seguito la prima volta. Grazie a tutti.